Sindaco Fassino, Sergio Chiamparino, alle regionali sta sfiorando il 50% dei voti. Si aspettava questo risultato? Qual è il suo commento? Che è un risultato clamoroso, come quello di ieri a livello nazionale, che conferma e consolida la stessa tendenza già manifestatasi ieri. Cioè gli elettori si sono affidati al PD e i suoi candidati, sul piano nazionale a Renzi, sul piano regionale a Chiamparino, e hanno rifiutato nettamente chi aveva voluto trasformare questo voto in una rissa, in uno scontro demagogico, in un'aggressione come è stato per settimane e settimane. È significativo che in Piemonte il candidato del 5 Stelle non arriva neanche secondo ma terzo, che vuol dire che gli elettori hanno scelto la politica e hanno respinto la demagogia e la rissa. Grazie.